Il comandante del Corpo di Polizia Locale di Agrigento, Cosimo Antonica, ha diffuso il bilancio delle attività svolte nel 2012. In materia di vigilanza e anti-abusivismo nel solo centro storico sono stati 55 controlli effettuati, accettamenti che hanno portato alla denuncia di 22 persone e al sequestro di 5 cantieri per violazione alle vigenti normative urbanistiche. Nel resto del territorio comunale invece gli agenti hanno riscontrato irregolarità in 102 cantieri. Non meno incisiva è stata l'azione attuata dal Corpo di Polizia Locale in materia di vigilanza commerciale, con 661 controlli eseguiti e 110 verbali elevati, di cui 36 per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le operazioni di controllo hanno interessato anche i locali della Movida Agrigentina, disciplinata in periodo estivo da ordinanze sindacali. Particolare attenzione è stata riservata anche all'attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi. Manzioni quest'ultime di competenza del nucleo operativo speciale del Corpo di Polizia Locale. Per quanto riguarda il fenomeno del randaggismo, nella città dei Templi per il 2012 sono stati effettuati ben 143 interventi. E nel 2012 non è mancato il lavoro neanche per il nucleo infortunistica, che ha rilevato 305 incidenti stradali, di cui uno mortale. Per quanto concerne le attività di polizia giudiziaria, sono state 61 le informative di reato inviate alla Procura della Repubblica di Agrigento, nei riguardi di 82 persone denunciate a piede libero per diversi reati che vanno dall'occupazione abusiva di alloggi popolari, alla pirateria audiovisiva e ancora al furto di acqua. Impressionanti i verbali elevati dagli agenti nelle attività di controllo del traffico e della sosta selvaggia, che sono stati 16.354.